Oggi inauguriamo gli alloggi popolari a Giano dell'Umbria nel complesso di San Francesco che dopo molti anni sono stati ristrutturati da parte di Ader a cui voglio rivolgere un particolare ringraziamento con un intervento di 70.000 euro. Ridiamo quindi alla comunità gianese alcuni alloggi che verranno poi assegnati in base allo scorrimento della graudatoria già in essere fatta dal comune di Giano dell'Umbria e questo è un segno anche per riportare Giano ai vecchi splendori, cioè riportare delle persone ad abitare proprio a Giano dell'Umbria. Questo è il nostro auspicio, è quello che come amministrazione ci siamo prefissi e quindi vogliamo fare e questo è il primo passo di una serie che seguiranno anche sempre a Giano e quindi anche nel complesso San Francesco con la prossima inaugurazione anche dei lavori di ristrutturazione, rifacimento e completamento della chiesta di San Francesco. Oggi però ci dedichiamo agli alloggi popolari, come vi dicevo prima, con la riapertura a seguito della ristrutturazione di questi alloggi a cui andremo poi ad assegnare le famiglie nell'auspicio che tornino ad abitare, come ho già detto, a Giano dell'Umbria. Grazie.